Proviamo a capire i fatti, proviamo a dare delle soluzioni. Parliamo ancora una volta del turismo in Campania e in modo particolare a Napoli. Dobbiamo dire che gli ultimi dati agi per quanto concerne il 2022 vedono la nostra regione e la città di Napoli in grande spolvero, però naturalmente rispetto ai numeri importanti delle altre città italiane dobbiamo dire che Napoli non si colloca tanto bene. Difatti nelle prime quattro posizioni troviamo Roma, Firenze, Venezia e Milano, Napoli è soltanto al sedicesimo posto. Abbiamo praticamente Roma che ha chiuso addirittura con 29 milioni e 200 mila turisti che hanno visitato la città. Napoli al sedicesimo posto, ripeto in grande spolvero comunque, è addirittura stata visitata nel 2022 da poco più di due milioni di turisti. Naturalmente le potenzialità della nostra città sono potenzialità importanti che vanno migliorate. Vanno migliorate queste potenzialità attraverso naturalmente delle accortenze verso il turismo stesso, quindi più infrastrutture, più attività ricettive di qualità e non quelle di basso profilo. più naturalmente, come devo dire, cortesia e più sicurezza. Tenendo presente che Napoli ha il sedicesimo posto per quanto concerne la visita dei turisti, però forse o indubbiamente così è al primo posto per quanto riguarda le offerte sull'artigianato, sulle bellezze naturali, sulle bellezze artistiche e sull'enogastronomia.